ehi bell'uomo siete tutti molto concentrati sto ascoltando il pezzo il singolo nuovo dei Dic Dic quanto amore c'è? quanto amore c'è appunto in abbondanza senti è proprio di abbondanti cioè mi puoi liberare lo studio da Corrado Riva? dove è andato a finire? mi ha chiesto la foto con i Dic Dic eh ragazzi la foto con i Dic Dic vuoi? sì la facciamo dopo? io non vuoi Dic Dic spettacolo vedi questo è il momento più delicato per l'artista perché quando sente la canzone come esce in radio una roba